Il Parco della Mandria si trasforma in una formidabile palestra per le atleti di livello internazionale che con la loro presenza faranno da cassa di risonanza per la promozione del territorio, con ricadute positive per i vari comuni nei quali lo stesso parco si divide. Quella del neoprimatista europeo Sondre Mohan è la prima presenza importante al Parco della Mandria. Come hai trovato il campo di allenamento, la Mandria? Sì, è quasi ghiaccio, è in gennaio e il giro è ancora molto soft, quindi è molto bello per correre. Dice che chiaramente c'è ghiaccio perché siamo in gennaio, però la superficie è piuttosto soffice e quindi è ideale per correre. Come ti trovi qui in Italia? Allora dice che la situazione è molto positiva perché... Perché c'è in questo momento un grande trattore che passa Comunque il posto dove lui risiede in questi giorni è a 4 km da qui è decisamente un ottimo posto per rimanere, il supermercato è a poca distanza, la stazione e l'aeroporto non sono assolutamente lontani, il problema è chiaramente per il momento è la lingua, ovviamente perché non è ancora italiano come linguaggio, questo è un po' il problema. Ti senti pronto per un altro record? Non ancora, ma dopo alcuni mesi di allenamento specifico possa migliorare il proprio limite, chiaramente stiamo parlando della mezza maratona. Il suo allenatore Renato Canova utilizzerà il parco quale base europea per i campioni mondiali che si troveranno a gareggiare nella stagione agonistica, come illustrato ai nostri microfoni. Il primo obiettivo concreto sarà nei campionati del mondo di mezza maratona che sono a Valencia, in Spagna, il 24 di marzo. L'obiettivo più che su un piazzamento è piuttosto legato al conseguimento di un tempo diverso e possibilmente di abbattimento del primato europeo che è di Moffarà. 59 minuti e 32 secondi è il primato europeo di Moffarà, 59.48 è il suo record personale già fatto a Valencia, il percorso sarà leggermente diverso. Quello dei mondiali, gli organizzatori dicono che è anche più veloce e sicuramente le condizioni ambientali saranno migliori perché a fine marzo a Valencia l'umidità che invece c'era ad ottobre è molto ridotta. Quindi ci sono concrete possibilità di migliorare questo primato europeo se lui riuscirà a essere in condizione. Lui parte per il Kenya da lunedì prossimo e speriamo, io lo raggiungo dopo 3 o 4 giorni e spero che a un certo punto le condizioni di allenamento possano essere valide. Dopo questo avremo un ritorno alla pista dove lui farà un 10.000 metri a Oslo nel corso della Diamond League il 7 giugno con l'intento di cercare di migliorare il primato nazionale norvegese che è del 1990, sono tutti primati molto datati e quindi in questo modo diventerebbe praticamente il primo atleta norvegese ad avere il record dai 10.000 alla maratona tutto compreso, se poi fosse tutto ok con due di questi che sono anche primati europei. Il terzo dopo questa zona qui sarà andare direttamente senza gare intermedie, direttamente sui campionati europei che sono ai primi giorni di agosto dove correrà la maratona e la preparazione dopo Oslo per la maratona sarà fatta qui in Italia, distribuita tra il Sestrier e esattamente la Mandria, quindi questi saranno gli obiettivi stagionali di quest'anno qua, in attesa di avvicinarsi all'Olimpia dove può avere delle concrete chance nonostante gli africani di poter andare sul podio. Renato Canova è considerato un guru degli allenatori dei maratoneti, qual è la più grande soddisfazione di Renato Canova? Finora a livello di atleti l'atleta più grande che ho avuto e che è quello di cui si parla ancora oggi è il primatista mondiale dei 3.000 siepi, quindi niente da che spartire con la maratona, 3.000 siepi che ha cominciato con me praticamente Stephen Cerrone e poi è diventato l'atleta, il primo che ha innescato questa procedura di passaggi, di nazionalizzazioni con i paesi arabi, perché poi lui è diventato un atleta del Qatar, ha vinto i due titoli mondiali, ha fatto il record del mondo nel 2004 con il nome di Saeed Saif Shaheen, che è l'attuale prima testa mondiale dei 3.000 metri. Poi ho avuto altri atleti che hanno fatto dei record del mondo, che hanno vinto dei titoli mondiali, non soltanto in maratona, quando rimaniamo sulla maratona negli ultimi anni ho avuto 3 dei campioni del mondo, cioè Abel Kirui che ha vinto nel 2009 e nel 2011 e poi nel 2012 è arrivato secondo all'Olimpiadi, ha preso l'argento e poi l'attuale campione del mondo di maratona Geoffrey Kirui che è un altro del mio gruppo, quando sono in Kenya salendo pure insieme con Sondre. Devo però dire che a livelli di pura soddisfazione, la soddisfazione che un tecnico può provare quando segue un atleta tipo Sondre è sicuramente maggiore, sicuramente maggiore perché c'è una forma di feedback che con gli africani non si riesce mai ad avere. Tanto per dire, è difficilissimo per me avere un resoconto da un atleta africano, anche numero 1 al mondo, di cosa fa in una settimana se io non sono là, cioè quando sono là direttamente perché li seguo, ma se poi non ci sono per una settimana, nonostante i miei aiuti allenatori che ci sono, non riesco mai ad avere fino in fondo i completi resoconti di cosa hanno fatto. Con Sondre ogni giorno ho 4 o 5 messaggi, anche quando io non ci sono, dove ci sono anche le sensazioni, quindi lo stesso oggi, me ne ha già mandati 3 oggi, dove mi ha detto cosa ha fatto stamattina, quindi c'è una maggiore consapevolezza di quello che si fa e per un allenatore che non voglia soltanto avere dei risultati, ma voglia anche capire che cosa succede. Quando alleno gli africani forse più un teacher, un insegnante che è un allenatore prima di tutto, mentre invece con un europeo, con un americano che ne ho anche, c'è un tipo di rapporto diverso perché loro usano in maniera diversa le tecnologie, hanno un altro tipo di educazione anche come livello e peraltro devono essere talmente bravi da diventare un po' più selvaggi, perché se vogliamo riuscire nel mezzofondo, dove la dote fondamentale è quella anche di avere grande capacità di sofferenza sulla fatica, sul dolore fisico anche quando si arriva su certi limiti, bisogna riuscire a non annullare l'istinto, l'africano è molto istintivo e alle volte questo è un bene, alle volte questo è un male, se si riesce a unire l'istinto dell'africano a una capacità maggiore razionale ed educativa, che ha casomai la teta europea o la teta americana, non perché sia bianco o per altri motivi, ma semplicemente perché ci si trova in una società che è più avanzata dal punto di vista tecnologico, quando si riesca ad unire queste due cose, sono convintissimo che le differenze che a mio parere non sono tanto di carattere genetico quanto di carattere ambientale, possono venire tranquillamente anche annullate. Noi abbiamo in momento 4 atleti bianchi, a me non piace tanto la distinzione bianco o nero, perché per me la distinzione se parliamo di sport è chi è forte e chi è meno forte. Comunque ci sono 4 bianchi, di cui 2 sono neozelandesi, sono gemelli e uno è uno svizzero, anche un ragazzo svizzero che ha vinto anche due giorni fa una corrida battendo gli africani, che hanno fatto una scelta di vita, non come la scelta di vita del calciatore che fa la scelta di vita poveretto andando in un posto a 8 milioni all'anno, non è proprio così. Quindi c'è una scelta di vita di persone che vanno da una situazione positiva e di tranquillità che possono avere a casa, in una condizione sicuramente peggiore, ma molto più motivante, loro scelgono di diventare come i keniani perché credono di poter riuscire nell'atletica e i risultati dicono che ci stanno riuscendo. Il problema è non tanto sul talento, ma la domanda è quanti sono i talentuosi in Europa, in America, in questi posti che hanno il coraggio di fare una scelta di vita di questo tipo? Questo è il problema vero, è di crederci e di avere per una parte della tua vita, 4 o 5 anni, questo come obiettivo unico. Sondra è uno che si allena, mangia e recupera e questo alle volte anche da solo, come ha fatto al Sester per più di 50 giorni, praticamente e di sicuro non gli pesa quello che non fa perché è troppo legato a quello che fa. Se uno vuole riuscire queste sono le situazioni.